Nel calcio tutto è possibile, è vero che si incontrano due squadre, soprattutto al di là del gioco, che amano giocare a viso aperto, che non vogliono farsi sottomettere, che fanno della propria identità la qualità maggiore. Sono due di quelle squadre di Serie B, oltre ad altre squadre sicuramente, che fanno di questa caratteristica il loro principale pregio, per me è un pregio, e quindi credo che sarà una bella partita. Perché è giocata a viso aperto, il Cortone è una squadra che fa della corsa, dell'agonismo, le caratteristiche principali, oltre al fatto comunque di un ottimo sviluppo di gioco, una squadra che ama attaccare con tanti giocatori, che non ama aspettare l'avversario e mandarla a prendere alto. E quindi credo che sarà una bella partita impegnativa, una partita difficile, come tutte quelle della Serie B, con aspetti diversi, completamente diversi, da magari squadre che abbiamo incontrato in precedenza.